bene per la prima volta davanti alla lavagna invece che dietro come mia abitudine studentesca sono qui per un alezio brevis che ha per tema you and any con la nuova carta you and any prepaid carta fedeltà che da oggi se vuoi anche carta prepagata puoi trasformare ogni tuo acquisto quotidiano in carburante omaggio se la usi per pagare i rifornimenti accumuli due punti per ogni litro di carburante e tre punti con i carburanti any blue plus sono preparato in più continua a moltiplicare i tuoi punti facendo acquisti nei negozi che spongono i marchi carta si o mastercard o anche online che so se acquisti su internet un acceleratore protonico lo puoi fare così trasformi i punti in altro carburante omaggio e con you and any prepaid paghi nel modo più semplice e sicuro grazie alla modalità contactless tap and go ideale per le tue spese in velocità puoi richiederla in due modi o vai in una delle any station aderenti o su you and any.com e puoi ricaricarla in tantissimi modi ad esempio in una delle any station abilitata al servizio oppure con l'home banking grazie al codice iban presente sulla carta trasforma i tuoi acquisti in carburante omaggio scopri la nuova you and any prepaid nelle any station aderenti o su you and any.com any station un mondo che si muove con te